Ciao ragazzi, purtroppo oggi non si può girare quindi venite a vedere il mio pitch. Qui abbiamo la tv dove durante le sessioni di prove di gara possiamo vedere i tempi. Qui il divano dove posso riposarmi e guardare un po' quello che sta succedendo durante il weekend, i dati. Questo è l'armadio dove poi tengo anche tutte le mie cose. Qui ci sono due tute test nuove di Appinistan e due paio di stivani. I caschi sono dentro nel box già pronti in caso dovessimo girare ma oggi penso che piova. Qua invece saponette, abbiamo una riserva abbastanza importante per questo test. Questo invece diciamo che è l'angolo che utilizzo prima di salire in moto, nel senso che qui c'è la mia ciclera dove di solito mi scaldo. Questo è un tavolino che ci appoggio anche ad esempio le mie borrace, tutti i miei sali minerali e varie cose. Questo è lo stendino molto importante, quando scendo dalla moto mi cambio e asciugo i vestiti lì. Ciao ragazzi!